Festeggiamenti ridotti per le limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica ancora in corso, come dimostra la recente istituzione della zona russa Mondragone in provincia di Salerno, questa mattina nella caserma giudice e sede del comando provinciale, dove la Guardia di Finanza di Salerno ha celebrato il 246esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Alla cerimonia ha preso parte il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ma come sempre è stata occasione per tracciare un bilancio operativo del 2019. In primo piano le azioni tradizionali del Corpo, come quella della lotta all'evasione fiscale, con 668 interventi, tra verifiche e controlli fiscali a professionisti ed imprese, con il recupero a tassazione di circa 500 milioni di euro, nonché 353 indagini delegate dalla magistratura. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle frodi Carosello, 36, i casi sospetti. Altro capitolo riguarda il contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica. Le frodi in danno al bilancio nazionale e comunitario, individuate dalla Guardia di Finanza di Salerno, sono state pari ad oltre 5 milioni di euro, con 21 persone complessivamente denunciate all'autorità giudiziaria. Le irregolarità più consistenti hanno interessato le prestazioni assistenziali, assegni sociali, pensioni di guerra, invalidità civile, con circa 150 mila euro percepiti indebitamente. Passando più in generale alla tutela della legalità nella pubblica amministrazione, l'operazione più importante resta Ground Zero, che ha portato all'arresto di giudici tributari, funzionari amministrativi, imprenditori e consulenti fiscali ritenuti responsabili di pilotare i procedimenti tributari a favore di imprenditori corruttori. Infine, nel contrasto alla criminalità economica finanziaria, su 59 accertamenti patrimoniali sono state avanzate proposte di sequestro di beni per circa 92 milioni di euro.